Sono ben 1413 le nuove offerte di lavoro in enti pubblici e aziende private distribuite su tutto il territorio nazionale e che sono consultabili all'ufficio relazioni con il pubblico del libero consorzio ed egregento di Piazza Vittorio Emanuele. Si tratta di offerte che riguardano sia il settore pubblico quanto quello privato, impieghi a tempo determinato o a part time, riguardanti diversi livelli professionali e titolo di studio in aziende di diverse regioni d'Italia. La Polizia Penitenziaria ha pubblicato un bando per 400 agenti con licenza media, di cui 300 ruolo maschile e 100 in quello femminile. Disponibile anche il bando straordinario per il servizio civile, che prevede 985 posti part time da avviare al lavoro entro il 2015, per la durata di 12 mesi. E ancora tre bandi per lavorare come impiegati all'Università di Cagliari, uno all'ASDA di Taranto per l'assunzione a tempo determinato di 16 operatori sociosanitari con licenza media e uno all'ASDA di Garbagnate in provincia di Milano per 5 posti di operatore sociosanitario. Infine, il Comune di Padova seleziona candidati da assumere come collaboratori informatici. I bandi e le offerte di lavoro saranno consultabili anche nelle urpe periferiche di Canicattì, Bivona, Sciacca, Cammarata, Licata e Ribera. Telefonicamente si possono contattare i numeri verdi 800 31 55 55 oppure 800 23 68 37. Il personale dell'ente è a disposizione dell'utenza, anche per la compilazione delle istanze. Grazie. 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 Grazie.